Il commissario del PD Irpino Cennamo, col vice governatore della campagna Bonavitacola e l'amministratore delegato Alto Calore Ciarcia, invitano i sindaci a rilanciare un'azione politica comune sul tema acqua pubblica, nutrita partecipazione e tuttavia spiccano le assenze del sindaco Festa e dell'area De Caro. Cennamo nella sua relazione predica unità ma alza i toni, dicendo peccato che i protagonisti del dibattito, che dovrebbero sopire le tensioni, oggi siano assenti. Ma Cennamo va oltre, ho chiesto tre volte di guardare avanti e non so se ce ne sarà una quarta. Fuoco sull'acqua dell'Alto Calore in crisi, Ciarcia intanto si dice pronto a tirare dritto pur con le difficoltà di un debito proveniente dal passato. I fondi servono, come ho detto prima, per chiudere una, come dire, per dare una mano su quanto riguarda i debiti, però nella gestione noi siamo tranquilli perché la gestione della caratteristica è inutile. L'anno scorso abbiamo pre-pensionato 25 dipendenti, adesso il primo dicembre andranno in pensione altri 20 dipendenti e quindi siamo in grado di poter sostenere le spese. Io mi sento tranquillo, non sono affatto preoccupato. Se c'è una mano dalla Regione e dalla Cassa dei Posti del Presso e dai Comuni, ben venga, serve per aiutarci, per arrivare prima, come ho detto prima. La questione è tutta qua, i tempi si allungano o meno, però l'attività di Alto Calore è regolare. Il Vice Governatore promette da martedì lo sblocco di investimenti per 20 milioni. Sulle polemiche politiche, compresa l'assenza di festa, Bonavitacola glissa. Ma chieda al Sindaco del Comune, questa è una riunione di partito, sarebbe grave se non vi fosse il Commissario Cennamo, visto che non è di partito, ma credo che ci sia. Il PD discute di acqua nella terra dell'acqua, c'è la buona volontà di fare investimenti da parte della Regione, forse mancano quelli del Governo. I cittadini vogliono sapere come si fa ad abbassare però la bolletta, con un ente al collasso, se la Regione non metterà a mano o può mettere a mano al bilancio idrico. C'è questa volontà da parte della Regione per far abbassare la tariffa in Irpinia? La tariffa riguarda i costi di gestione e la Regione non può dare contributi sui costi di gestione, non è un compito della Regione. La Regione può finanziare interventi, se attraverso questi interventi si trasferiscono su spese di investimento, costi ordinali, mi rivisco al personale che sarà impegnato in queste attività, questo avrà un effetto indirettamente benefico sulla gestione della società. Per lei non c'è uno scippo delle acque in Irpinia rispetto alla Puglia? Lo scippo è un fatto improvviso, istantaneo, qua parliamo di una vicenda che inizia nel 1900, agli inizi del 900, quindi parlare di uno scippo che dura più di un secolo è anacronistico, c'è un problema di riequilibrio delle risorse idriche, sicuramente sì. Abbiamo chiesto al Ministero di farsi promotore di un tavolo di composizione con la Regione Puglia, non vogliamo andare a nessun conflitto ma vogliamo difendere in modo rigoroso e deciso le ragioni della Campania, in particolare dell'Irpinia.